Alcuni VIP, dopo il pranzo, sono ancora al tavolo della veranda a discutere sulla spesa fatta e su come. Secondo alcuni dei presenti, è stata divisa tra i gruppi di cucina. Sophie e Alessandro credono che la mancanza di alcuni alimenti rispetto alla lista stilata sia dovuta o alla disattenzione di chi si è occupato della divisione del budget, oppure a chi ha pensato bene di finirsi le scorte senza pensare agli altri coinquilini. Pensavo che sarebbero arrivati il giorno dopo, si giustifica Lulu, scatenando un'irreversibile discussione che sfocia in una furiosa lite tra la principessa e Sophie. Sto piangendo perché mi ferisce la cosa Lulu scoppia in lacrime, rivendicando la sua buona fede e insistendo sull'inopportuno rimprovero della modella. Sophie non si trattiene dal commentare l'atteggiamento adottato dalla principessa, alludendo al fatto che ogni volta che Lulu si trova in difficoltà durante una discussione reagisce sempre alla stessa maniera. Non usare il vittimismo.